hola ragazzi primo ottobre oggi grandissimo evento sfilata si sfilerò anche io vi porto con me make up da favola seguitemi e vi volevo dire siccome ci sta anche la mia bimba il beauty andrò a truccare un sacco di modelle si andrò a toccare un bel po di modelle sino fate voi che oggi primo ottobre stiamo in macchina stiamo partendo e andiamo in una location da paura andiamo sia al maschio angioino a napoli a piazza municipio arrivati a napoli ore 16 precise si stiamo ancora in tempo perché abbiamo parcheggiato un po distante dal maschio angioino perché qua è sempre zona traffico limitato la luce ci fa un baffo e vabbè ragazzi qui stiamo con stiamo con la piccola si stiamo con la piccola stiamo camminando stiamo salendo e andiamo sempre più su andiamo verso il maschio angioino direzione piazza municipio e incontreremo tante persone divertenti tanti amici tanti colleghi tanti tantissimi tantissimi artisti artisti si bello non so vi gustano questi nuovi occhiali ragazzi datemi una vostra opinione perché per me sono belli strafighi e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, allora, qui non c'è luce. Allora, c'è un po' di luce, ci vediamo o non ci vediamo? Va bene, non ci riusciamo a vedere perché è sera. Qui abbiamo già truccato un sacco di modelle, stanno interpretando i riguardi della signora Tiziana Grimaldi. E' peccato che io non avrei un flash disponibile. E' il camafato. Vi volevo far vedere, qui non c'è luce. Siamo all'interno del maschio azzurino. E va bene. Ancora, ancora la serata non è finita. Qui abbiamo Carolina sul palco. La signora Carolina, speriamo che dopo nei... Seguiamo a mezz'è un po' di poca. c'è, non c'è luce, non c'è niente, allora ragazzi io vi saluto, un bacio e alla prossima.